siamo entrati nel percorso sterrato dopo essere scesi dal cimitero di vittoria proviamo questa nuova via consigliata dal nostro amico salvo ciao franco ciao giampi ciao alessandro ciao a tutti i partecipanti ecco salvo suggerisce l'ultimo nome beh diciamo che salvo ci abbia donato la settimana scorsa distanza 13 chilometri durata 49 minuti 33 secondi passo 3 minuti 2 secondi ecco già il primo baghetto ah questo è uno spettacolo no va bene ci sentiamo dopo ciao ecco la prima salitina la potenza è nulla senza il controllo stiamo giocando qua praticamente vai salvo ciao